A volte può capitare, e mi verrebbe da dire per fortuna, che anche dopo anni di professione capiti qualcosa che cambia in qualche maniera il nostro modo di scattare fotografie o di girare video. È proprio il caso che vi porto oggi, perché andremo a parlare di quest'ottica. Spero che riusciate a vederla abbastanza bene. Questa qui è la Canon EF 85mm f1.4, un'ottica non recente, un'ottica abbastanza vecchia, tant'è che ho fatto fatica a trovarla. Vi racconto l'esperienza di acquisto in un video precedente che vi lascio linkato in card. Vi ricordo di iscrivervi al canale se argomenti come questo possono essere di vostro interesse e mi auguro di riuscire a farvi vedere un po' di immagini e di darvi una panoramica esaustiva di quest'ottica nel corso del video che vi consiglio peraltro di seguire fino alla fine. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia. Ho acquistato relativamente da poco l'85mm f1.4. L'ho acquistato per una serie di motivi non ultimo il fatto che, come vi racconto in un video precedente, l'ho trovato per una cifra veramente stracciata. Ora io non sono certo nuovo all'utilizzo dell'85mm come lunghezza focale perché io possiedo per esempio il 24-105 e quindi utilizzo spesso la lunghezza focale dell'85mm quando faccio fotografia in studio. Ma il 24-105 è un'ottica con un diaframma fisso di f4. Quindi io non ho mai avuto la possibilità di utilizzare quest'ottica f1.4. Devo dire che i risultati sono da un lato prevedibili perché sappiamo tutti benissimo cosa succede quando scattiamo a f1.4 o comunque con delle aperture folli come queste. Quello che succede sono sostanzialmente due cose. Avremo uno sfocato pazzesco e avremo una profondità di campo sottilissima per cui riusciamo a mettere a fuoco solo una parte del nostro soggetto. Infatti quando io faccio dei ritratti con questa lente si mette a fuoco sull'occhio però si vede molto chiaramente che il naso e l'orecchio del mio soggetto sono già fuori fuoco. È un effetto che io ho sempre un po' snobbato perché mi sembrava troppo artistico per quello che io faccio. Diciamo che ultimamente ha cominciato a piacermi e andremo a vedere perché. Ma cominciamo a vedere qualche dato su quest'ottica. Stiamo parlando di un serie L quindi ha tutte le solite feature delle ottiche Canon Premium e quindi ha la tropicalizzazione, il trattamento alla fluorite sull'elemento frontale eccetera eccetera. Si tratta udite udite di un'ottica stabilizzata. Ora molti diranno ma cosa me ne frega a me di avere lo stabilizzatore su un 85 mm? Ebbene sì l'ho pensato anch'io ragazzi perché lo stabilizzatore su una lente come questa francamente a me non serve a niente tant'è che io lo sto tenendo spento. Vi voglio raccontare perché non mi serve a niente. Stiamo scattando a f1.4 quindi un'ottica come questa secondo me ha senso se la usiamo nei pressi dell'apertura massima altrimenti se la dovevo usare a f4 mi tenevo il 24-105 lo mettevo a 85 mm ed era la stessa cosa. Quindi secondo me quest'ottica ha senso se la usiamo con un'apertura molto ampia ovviamente. A questo punto se scattiamo a 1.4 possiamo tranquillamente abbassare gli ISO e possiamo tranquillamente aumentare i tempi di scatto. Io vi dico che mi è capitato di scattare indoor in situazioni di luminosità non eccelsa ISO 400 e un 160esimo. Quindi con un 160esimo francamente a me lo stabilizzatore non serve perché non è che mi trema la mano fino a quel punto. Oltretutto lo stabilizzatore tenete conto che stabilizza i nostri movimenti ma non i movimenti del soggetto. Quindi se io ho lo stabilizzatore ma sto fotografando un soggetto che si muove e lo stabilizzatore non mi ferma il soggetto in movimento. Per quello dobbiamo lavorare noi sui tempi, dobbiamo andare a diminuire i tempi di scatto in modo da bloccare il movimento di una persona che si muove. Quindi in quel caso lo stabilizzatore serve a poco. È pur sempre vero che lo stabilizzatore serve per fare video ed è pur sempre vero che comunque è un aiutino nello scatto. Quindi va bene che ci sia, non ho nulla da recriminare, mi sta benissimo che ci sia. Magari in certi contesti lo userò anche però francamente al momento lo sto tenendo spento perché non mi serve e perché preferisco piuttosto andare a utilizzare un flash per andare a darmi una mano a cristallizzare il movimento piuttosto che usare lo stabilizzatore. Comunque si tratta di una lente stabilizzata e oltretutto una stabilizzazione da 4 stop, quindi di tutto rispetto, quindi nulla da dire. Diametro 88,6 x 105 mm, quindi è un'ottica non gigante ma non è neanche piccola e non è un pancake. E la cosa che vi devo segnalare, che è una cosa che insomma a me non crea nessunissimo problema, io la maneggio tranquillissimamente però ve la devo segnalare, quest'ottica pesa 950 grammi, quindi pesa veramente tanto. Io credo che sia in assoluto l'ottica più pesante che io abbia mai comprato perché ne ho comprate di pesanti ma questa qui le batte tutte. Non è enorme come potete vedere ma ha un peso veramente pazzesco e credo che sia dovuto al fatto, se andiamo a scoperchiare, vedete l'elemento frontale, vedete quanto vetro c'è. Questa qui è una lente enorme e via via contiene delle lenti enormi e tutto questo vetro, tutte queste lenti grosse con un diametro notevole vanno ad aumentare il peso, non sono le componenti interne o lo stabilizzatore, quelle ci sono sempre. Secondo me è proprio il vetro che va ad aumentare, a dismisura il peso di quest'ottica. Devo dirvi che io, come detto, io la tengo tranquillissimamente, non ho avuto nessunissimo problema neanche dopo ore di utilizzo. Mi rendo altresì conto che per un utente più mingerlino di me può rappresentare un ostacolo perché 950 grammi per un'ottica prime è veramente un po' tanto. Quindi ve lo segnalo, però nulla toglie la qualità costruttiva, anzi semmai va a favore della qualità costruttiva perché la qualità difficilmente è leggera e va sicuramente a favore della qualità d'immagine finale che riusciamo a ottenere ovviamente. Stiamo parlando, e questa è una cosa che mi ha fatto saltare di gioia, di un diametro filtro da 77 mm. Perché mi ha fatto fare salti di gioia? Perché tutti i miei filtri sono da 77. Quindi io posso usare su quest'ottica tutti i filtri già in mio possesso. Li userò mai? Non credo perché il polarizzatore e il filtro ND non credo che troveranno mai un utilizzo su un'ottica come questa che io vedo prevalentemente per fare ritratto, reportage o foto per aziende, ma non la vedo come un'ottica su cui utilizzare filtri. Però sapere di poterlo fare è comunque una cosa in più. Una cosa che non mi è piaciuta tanto invece è questa ve la segnalo, la distanza di messa a fuoco. Questa è un po' sempre la nota dolente sugli 85 mm perché visto l'utilizzo per cui sono pensati hanno una distanza di messa a fuoco abbastanza notevole e questo se ricordo correttamente ha una distanza minima di messa a fuoco che è intorno ai 70-80 centimetri, quindi bisogna stare indietro rispetto al nostro soggetto. Quindi scordatevi di fare macro con questo. O meglio, ci si può avvicinare un pochino perché comunque è un'ottica già medio-lunga, quindi si può avvicinarsi, però fate conto che per fotografare un gatto già si fa fatica. Non è il 100 mm macro, non possiamo avvicinarci quanto vogliamo. Se stiamo fotografando un gatto già è probabile che dobbiamo tirare un pelino indietro perché altrimenti non abbiamo la corretta distanza di messa a fuoco e credetemi, se siamo troppo vicini con un'ottica come questa si vede tantissimo perché il nostro soggetto sarà completamente sfocato, quindi non è proprio il caso. Andando più nello specifico a parlare di qualità d'immagine che riusciamo a tirare fuori da quest'ottica, ragazzi io devo dire che sono abbastanza colpito perché abbiamo una nitidezza pazzesca, abbiamo uno sfocato che è una roba indescrivibile. Io non ho mai avuto un'ottica che performi come questa, per questo vi dico che ha cambiato un po' il mio modo di lavorare, perché è un'ottica veramente bella da usare, dà proprio una soddisfazione immensa. Io adesso capisco i fanatici delle ottiche prime perché dicono no, per me gli zoom non esistono. Io uso entrambi i mondi, gli zoom per me sono essenziali perché nelle fasi del mio lavoro sono assolutamente quello che mi serve. Se io potessi usare sempre le ottiche prime sarebbe bello, ma non posso farlo, non posso usarle sempre. Certo è che quando posso, quando so che posso permettermi di utilizzare un'ottica come questa, il risultato è diverso rispetto agli zoom. Cioè il plus dello zoom è la versatilità, il plus di un'ottica come questa è che ti permette di lavorare in un certo modo e questo modo secondo me ti permette di portarti a casa delle immagini che non sono migliori dal punto di vista concettuale, perché alla fine hai fotografato la stessa cosa, però ti permettono di dare un'interpretazione maggiore perché tu metti a fuoco proprio in quel punto lì che hai scelto tu e se non fosse quel punto sarebbe diversa la foto. Se fosse tutto a fuoco sarebbe diversa la foto e se scegliessi un altro punto di messa a fuoco sarebbe diversa l'interpretazione. Quindi è un'ottica secondo me che veramente ti permette di dare la tua visione delle cose e di guidare lo spettatore all'interno di un'immagine perché qui abbiamo una profondità di campo così risicata che se lo spettatore non guarda esattamente dove hai messo a fuoco tu non vede quello che stavi guardando e però tu costringi lo spettatore a guardare dove hai messo a fuoco tu perché il resto è tutto così sfocato, prendete il frame che state guardando adesso, non vi viene da guardare il monitor dietro perché è sfocato, l'occhio umano è naturalmente attratto da ciò che è a fuoco quindi dovreste stare tutti guardando me, se c'è qualcuno che sta guardando il monitor me lo scriva in un commento che gli do al numero di un oculista. Ora sorge spontanea una domanda, ma io non vi ho sempre detto che non bisognerebbe scattare a tutta apertura con un'ottica come questa? Allora la risposta è sì e vi dico anche perché. Nel momento in cui scattiamo a tutta apertura con un'ottica come questa ovviamente ci tiriamo dentro un po' di difettini e questi difettini io li ho visti e si manifestano sotto forma di aberrazioni cromatiche che ci sono su quest'ottica. Quest'ottica di serie L super trattata, super testata, ha delle aberrazioni cromatiche a f1.4 perché comunque ho visto che scattando in situazioni perfettamente normali abbiamo comunque un po' di purple fringe, abbiamo un pochino di difetti cromatici soprattutto nelle aree di maggiore contrasto. Ora vogliamo anche dirci una cosa, voi conoscete qualcuno che ingrandisce le foto a 200-300% per andare a cercare le aberrazioni cromatiche in presenza di aree di forte contrasto? No perché l'ho fatto anch'io per fare questo video però se conoscete qualcuno che cerca le aberrazioni cromatiche nelle foto, alle mostre o sulle pagine delle riviste vi prego fatemici parlare perché è una persona che ha bisogno di aiuto. Quindi sì è vero ci sono le aberrazioni cromatiche però secondo me non tolgono nulla all'immagine, è una cosa normale, è una cosa che c'è in tutte le lenti, oltretutto è una cosa che si può correggere in posto ma vi dirò che io non lo faccio neanche perché secondo me non ha senso andare a intervenire su una cosa del genere, non ha veramente senso perché comunque attenzione stiamo parlando di un difetto contenuto, ci sono delle ottiche economiche che hanno delle aberrazioni cromatiche molto visibili e sapete cosa? Ci sono dei casi in cui questa cosa viene ricercata però io vi invito, avete visto Sex Education? Alzi la mano chi ha visto Sex Education, bravi là in fondo. Allora Sex Education è una serie con un'estetica molto curata, quindi può piacere o non piacere però Sex Education è una serie che per quanto riguarda il colore e lo stile di produzione è inconfondibile e una cosa che noterete guardando Sex Education è che hanno usato un'ottica, non so che ottica abbiano usato però potrebbe essere un'ottica vintage o un'ottica moderna che simula un'ottica vintage o questo non lo so, se guardate nel centro del fotogramma vedete che è tutto tranquillo, normale, ma se guardate sui lati del fotogramma vedrete che ci sono delle aberrazioni cromatiche, vedrete che c'è proprio un feeling vintage di lente vecchia dato da queste aberrazioni cromatiche molto evidenti, ovviamente fatte apposta perché potevano scegliere l'ottica che volevano, l'hanno fatto apposta perché diventa caratterizzante dello stile della produzione. È una cosa che a me personalmente è piaciuta tanto e quindi non vi dico che vado a cercare l'aberrazione cromatica apposta, non vi dico questo, però se c'è un filettino di aberrazione cromatica quando ho scattato a 1.4 non mi metto le mani nei pochi capelli che mi rimangono, perché è una cosa perfettamente normale, vi dico in tutta onestà che in 20 anni che faccio questo lavoro non mi è mai capita, aspetta un momento sono 20 anni, no sono un po' di meno però fa niente, facciamo 20 anni, in tanti anni che faccio questo mestiere vi assicuro che non è mai successo che un cliente mi venisse a dire però c'è aberrazione cromatica, non è mai successo, è una roba che guardiamo solo noi e talvolta neanche noi, perché talvolta c'è ma non si nota neanche, quindi da quel punto di vista state sereni secondo me. Ovviamente l'aberrazione cromatica diminuisce al diminuire dell'apertura, quindi se noi andiamo a chiudere a f2.8 il problema è risolto, però come detto secondo me il bello di un'ottica come questa è proprio scattare a 1.4. Per quanto riguarda nitidezza e sfocato, come detto abbiamo a che fare con un'ottica veramente top, perché abbiamo uno sfocato bellissimo e abbiamo un punto di messa a fuoco che è molto visibile, molto riconoscibile. Ora dobbiamo sicuramente dire due paroline sul sistema di messa a fuoco, perché come avrete notato è un'ottica EF e io la sto montando su una Canon EOS 5D Mark II, quindi su una fotocamera vecchia. Se avete visto il video sulle attrezzature che ho utilizzato di più nel corso dell'anno passato, dicevo proprio questa cosa, che la Mark II l'ho utilizzata poco l'anno scorso e siccome me ne rammarico perché è una bella macchina che mi piace, quest'anno l'ho montato l'85 mm e così la sto usando. Perché vi dico questa cosa? Per dirvi che performance di messa a fuoco, ovviamente la Mark II non è un mostro né di velocità né di precisione, non è una Mark IV, non è neanche una Canon, non è neanche una 6D Mark II, è una macchina con un sistema di messa a fuoco assolutamente datato, è un sistema di messa a fuoco vecchio, un po' lentino e che non funziona quando non c'è abbastanza luce, quindi non è un bel sistema di messa a fuoco rapportato a quello che abbiamo sul mercato oggi. La R7 che sto usando in questo momento lo distrugge il sistema di messa a fuoco della Mark II. Ciò nonostante, io utilizzando questa combo, quindi un'ottica vecchiotta e una fotocamera molto vecchia, vi devo dire che non sto avendo particolari problemi di messa a fuoco. Io metto a fuoco in un punto, uso la tecnica del focus and recompose, metto a fuoco in un punto, ricompongo, scatto e quello è. Sarà la mano, sarà l'abitudine? Certo, ovviamente se me l'avessero messa in mano a 16 anni quando avevo appena preso in mano la mia prima compattina avrei fatto schifo, sicuramente, quindi ci vuole un po' di pratica, però quello che vi voglio dire è non fatevi intimidire da un'ottica come questa anche su un sistema di messa a fuoco vecchio perché è la vostra mano che mette a fuoco, siete voi che mettete a fuoco col vostro corpo, mettendo a fuoco, tenendo premuto e ricomponendo e avendo una stabilità nel corpo, quindi quando io compongo e rimetto a fuoco non devo fare questo nel mentre, perché così va fuori fuoco di sicuro. Fuoco, ricompongo, sto fermo, sto in linea, perché se vado fuori asse allora sì che non beccherò mai il fuoco, ma è tutta una questione di memoria muscolare siamo noi che lo stiamo facendo e questo per dirvi cosa, non fatevi spaventare da un'ottica vecchia con un sistema di messa a fuoco magari datato perché è il vostro corpo che mette a fuoco. È vero che la mirrorless lo fa da sola, togliendovi la fatica di dover imparare ma anche il piacere di essere riusciti a farlo da soli, quindi la mirrorless è sicuramente un aiuto, però è possibile farlo anche sul sistema vecchio, d'altronde si è fatto così per vent'anni prima che arrivassero le mirrorless, quindi è un sistema di messa a fuoco valido e io vi faccio vedere queste immagini in cui scattavo in uno studio dentistico, come potete vedere sono riuscito a beccare col singolo punto di messa a fuoco un dettaglio molto piccolo e sono riuscito a mettere a fuoco dove volevo e a beccare quello nonostante ci fossero degli ostacoli davanti e nonostante non fosse facile beccarlo perché lo ammetto non era facile, però fate conto che su 15 foto che ho fatto a questa scena ne ho sbagliate 3, quindi 17 buone su 20 secondo me è una buona percentuale, mettici tutto quello che vuoi, mettici che ho un po' di mano, dopo anni che faccio questo mestiere magari ho un po' di mano, se siete neofiti prendete in mano quest'ottica fate sicuramente più fatica di me, però potete imparare, è questa la cosa buona, potete imparare e se imparate con un'ottica come questa poi su mirrorless non vi ferma più nessuno, però insomma è una scuola che secondo me è anche bene fare. Bene amici, io direi che a questo punto vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire perché vi ho parlato meglio che potevo di questa ottica di cui ripeto l'unica cosa che non mi piace è la distanza minima di messa a fuoco, a me piacerebbe potermi avvicinare quanto cavolo voglio io e infatti su mirrorless hanno fatto l'85mm f2 che è anche macro e con quello si potrebbe effettivamente avvicinarsi di più, però è un'ottica che ho scartato per due motivi, intanto perché non è serie L, insomma io non è che sono affezionato agli anelli rossi, non è che voglio fare il signore degli anelli, però so che è una qualità superiore, la tropicalizzazione e la qualità costruttiva sono un'altra cosa quindi ho preferito rimanere su un terreno che conosco, oltretutto ho pagato un prezzo stracciato per un'ottica di serie L invece di andare a prendere un'ottica mirrorless che poi avrei fatto più fatica a usare perché di mirrorless ne ho soltanto un paio, mentre di reflex insomma ne ho abbastanza da potermi giocare tutte le varie ottiche. A parte questo io vi devo dire veramente che è un'ottica con cui mi sto trovando bene, è un'ottica che cambia il tuo modo di fare fotografia, che ti dà qualcosa in meno perché sicuramente sei molto vincolato, puoi fare una cosa sola con un'ottica come questa, puoi fare o ritratto oppure puoi fare dei dettagli mirati con solamente il dettaglio a fuoco e tutto il resto sfocato, quindi è un'ottica con cui non puoi fare tutto, non è versatile, non la consiglio per andare in vacanza, non la consiglio per andare a passeggio, la consiglio sicuramente per fare ritratto, la consiglio sicuramente per fare reportage, non so se la consiglio per fare cerimonio e matrimonio perché è un po' limitante scattare in questo modo, io consiglierei piuttosto un 24-70, però comunque la si può usare anche per fare eventi, comunque verrebbero un gran bene. Detto questo amici io vi lascio come sempre spazio nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se qualcuno ce l'ha, se state pensando di acquistarla, se l'avete venduta perché non vi piace, se vi è caduta su un piede e vi siete fatti malissimo, fatemi sapere tutto quanto in un commento, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video perché se eravate in dubbio se acquistarla oppure no sono sicuro che vi ho salvato la vita, io e l'85mm vi diamo appuntamento al prossimo video. iscriviti al canale iscriviti al canale